Il suo papà portando pane sporco a casa aveva perso la dignità perché si incomincia forse con una piccola bustarella ma è come la droga pregare perché il Signore cambia il cuore di questi devoti della Dea Tangente Sono le parole che Papa Bergoglio ha pronunciato nel corso dell'Omelia della Messa celebrata questa mattina in Santa Marta Non è la prima volta che il Pontefice condanna la corruzione e il suo frutto, il pane sporco La parabola dell'amministratore disonesto e corrotto è stata oggi l'occasione per diffondere il pensiero del Papa sulla mondanità che inganna l'uomo e lo porta lontano dai valori cristiani rendendolo preda del denaro facile Rivolgendosi ai fedeli, il Papa ha fatto riferimento ad un atteggiamento abbastanza diffuso che genera frasi autoassolutorie come Tanto lo fanno tutti, basta guardare cosa fanno amministratori e politici È questo, secondo il Papa, l'atteggiamento da combattere la cultura della corruzione che si infiltra ovunque e inquina le menti Francesco ha comunque invitato a pregare anche per i corrotti perché, ha detto, sono persone che percorrono strade che tolgono tutto, persino la dignità E le ultime notizie che arrivano dal nostro paese fanno riflettere Oltre le grandi storie di mazzette che riempiono i libri di storia e le pagine dei giornali con tangentopoli varie, sono le piccole vicende di provincia ad alzare il velo sulla diffusione della corruzione Le ultime, tristissime, arrivano da Napoli e da Caserta Nel capoluogo campano venivano richieste tangenti al cimitero di Secondigliano per poter seppellire i morti e curare le tombe A Santa Maria Capoavetero, un assistente della questura di Caserta e un avvocato chiedevano mazzette agli irregolari cinesi in cambio del permesso di soggiorno Storie che sono la prova che il pane sporco, come lo ha chiamato Papa Francesco continua ad arrivare sulle tavole di molta gente, senza pudore, oltre che senza dignità